Siamo qui con il dottor Beremlischi, allora dottore, che cosa pensa di questo evento che avvicina proprio i giovani d'Italia all'Europa? Dal nostro punto di vista quello che si può osservare è che i tempi in cui stiamo vivendo hanno fatto sì che è aumentata la quantità di informazione sull'Unione Europea, sull'Europa in generale, per vari motivi soprattutto negativi, come per esempio la crisi economica che stiamo vivendo e la trasformazione politica. La quantità è aumentata, non necessariamente la qualità, soprattutto dal punto di vista dei media e quindi un evento come questo che mette insieme l'interesse dei giovani, naturale direi per l'Europa, la necessità di avere un'informazione, una comunicazione sempre più di qualità, oltre che di quantità, sull'Unione Europea non può che ovviamente rallegrarci e quindi è importante che un percorso come questo qui a cui stiamo assistendo, a cui nascita stiamo assistendo, prenda il massimo slancio, il massimo interesse e che possa appunto portare ai risultati positivi, anche perché c'è un elemento fondamentale che traspare appunto dal percorso di studi preparato dai professori e dai docenti, che è quello di una multimedialità sempre più intrinseca nel modo di fare giornalismo, nel modo di fare comunicatore, ovvero legare sempre di più le nuove tecnologie anche all'informazione di qualità e quindi questo è da salutare ovviamente con molto favore. Quindi un giornalismo che sta cambiando, un'Europa anche che sta cambiando, è giusto andare di pari passo? L'Europa sta sicuramente cambiando, l'abbiamo visto anche come dicevo prima in una campagna elettorale che forse non ha creato del tutto lo spazio pubblico europeo a cui aspiriamo di arrivare un giorno, ma sicuramente ha fatto vedere il principio di questo spazio pubblico europeo e quindi cambia in modo di concepire anche l'Europa, le sue istituzioni, il processo politico stesso che sta diventando sempre più politico, di pari passo ovviamente anche necessità di un nuovo tipo di approccio anche di informazione e di comunicazione e anche di giornalismo.